Due mesi per ribaltare completamente la situazione, dieci partite per garantirsi la partecipazione ai play-out e tornare così a credere concretamente alla salvezza. La Fidelisandria è pronta a giocarsi il tutto per tutto, la permanenza nel professionismo è ormai appesa a un filo, di qui al 23 aprile, data dell'ultima giornata di regular season in Serie C. In casa bianco-azzurra esisteranno soltanto finali, e spalle al muro la truppa di trocini, ultime in solitaria e in graduatoria e al momento retrocessa direttamente in Serie D. Primo obiettivo, quello di sfruttare nella migliore maniera possibile il doppio turno casalingo in arrivo. Si parte con il derby contro un Foggia alle prese con ore complicate a causa delle dimissioni di Mister Gallo. Si prosegue nel weekend successivo con la sfida alla più abbordabile Gelbison, sempre nel contesto del Degli Ulivi. Serve tornare a una vittoria assente dalla fine dello scorso novembre, serve dar continuità agli ultimi due pareggi consecutivi conquistati, serve anche interrompere l'astinenza da successi in trasferta che dura ormai da 15 mesi. La prima occasione utile per farlo? I derby di Monopoli in programma il prossimo 12 marzo, primo di tre impegni ravvicinati, con la visita del Crotone al Degli Ulivi e la trasferta sul campo del Monterosituscia a completare la settimana di fuoco. A quel punto, nell'ultimo mese, ecco arrivare il quintetto finale decisivo, quasi interamente a tinte campane, Giuliano e Juve Stabia in trasferta, Turris e Avellino tra le muramiche prima della chiusura in quel di Latina. Al momento i punti totalizzati sono stati appena 20, la sensazione è che per cullare serie speranze di play-out si dovrà arrivare più vicini possibile a quota 35. Per molti è una mission impossible, ma la Fidelis non vuole lasciare nulla di intentato. Grazie a tutti.